Mi presento, sono Andrea e ho fatto la traccia di tipologia A, nello specifico la traccia A1, che era la traccia che riguardava appunto Quasimodo. Ho scelto questa traccia perché, diciamo, con il mio professore di italiano abbiamo trattato molto l'argomento, tutti gli argomenti che riguardano appunto Quasimodo e la poesia in generale. Ho avuto buone sensazioni per questa prova, mi è sembrata abbastanza, non semplice, però comunque fattibile. Io ma anche i miei, diciamo, amici di classe non abbiamo trovato molte difficoltà.